L'Italia continua a boccheggiare. L'allerta al sud è costante, brevi scrosci di pioggia pomeridiani sono ormai diventati un miraggio insieme al refrigerio e il centro funzionale della protezione civile della regione Campania, in considerazione del quadro meteo, ha prorogato ancora l'avviso di allerta per ondate di calore. Lo stato d'attenzione resterà in vigore fino alle 8 di giovedì 15 agosto. La criticità riguarderà la Campania in maniera diffusa, si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5 gradi, un tasso d'umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare l'80% e condizioni di scarsa ventilazione. Le raccomandazioni sono le solite e riguardano in particolare anziani, bambini e fragili. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente areggiati gli ambienti è un altro dei consigli classici insieme alla necessità di tenersi idratati bevendo molta acqua. Attenzione anche agli animali domestici. Il Ministero della Salute ricorda infine il numero di pubblica utilità, 1500, che offre ascolto e informazioni ai cittadini ma anche all'impresa e ai lavoratori per mitigare gli effetti delle ondate di calore. Il Centrale Noi è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.